Piego le due schede. Ma perché due? Semplice, alle elezioni politiche i cittadini sono chiamati a votare due volte, un voto per la Camera dei deputati e un voto per il Senato. Ma chi sono gli scrutinatori che ti ho nominato prima? Queste persone, chiamate anche semplicemente scrutatori, sono dei cittadini che decidono volontariamente di lavorare all'organizzazione e gestione delle elezioni politiche. Per poterlo fare devono semplicemente iscriversi alla lista degli scrutatori del loro comune di residenza e rispondere alla chiamata nel caso di necessità per le prossime elezioni. Ovviamente possono sempre dire di no. Gli scrutatori che lavorano alle elezioni hanno diritto a un compenso economico per questo servizio e all'esenzione dal loro lavoro ordinario nei giorni in cui sono impegnati per prestare servizio allo Stato. Vorrei concludere questo episodio con una canzone che parla proprio degli scrutatori. È una canzone ironica, scritta e cantata dall'eccentrico Samuele Bersani, che racconta in modo brillante le contraddizioni che caratterizzano alcuni italiani. Spero così di strapparti un sorriso mentre ascolti lo scrutatore non votante, una persona che vive la vita come un ateo praticante perché prepara un viaggio ma non parte e pulisce casa ma non ospita. Hai mai conosciuto qualcuno così? Se tutto questo parlare di votazioni ti ha fatto venire voglia di votare, c'è una buona notizia. Puoi votare anche tu. Ma no, ovviamente non puoi votare alle elezioni politiche italiane che a quest'ora sono già concluse da tempo. Ma puoi votare qualcosa di molto più interessante. Puoi votare una storia. Vai sul sito onlineitalianclasses.com onlineitalianclasses.com slash storie e leggi direttamente tutte le storie che partecipano al contest e vota la tua storia preferita. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.